Per riconfigurare l'app Aruba OTP sul tuo telefono o tablet, perché hai cambiato telefono oppure in caso di cancellazione del tuo account di firma remota sull'app, accedi alla pagina selfcare.firma-remota.it. Inserisci nome utente e password di firma remota. Clicca login. Nel menu di sinistra, sezione gestione dispositivi, clicca su cambia o riconfigura smartphone o dispositivo OTP. Nel menu tipo dispositivo seleziona App Aruba OTP. Inserisci la password della tua firma remota e clicca prosegui. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato tramite sms al numero di telefono associato alla firma remota e clicca prosegui. Se il codice non arriva entro breve tempo, clicca su invia di nuovo. Prosegui. Se non lo hai già fatto in precedenza, nel tuo smartphone o tablet scarica e installa l'app Aruba OTP. Poi clicca prosegui. Lascia questa schermata del pc aperta. Vai sullo smartphone o tablet e apri l'app Aruba OTP. Clicca su attiva account OTP. Clicca sull'icona QR code situata a destra del campo codice di attivazione e inquadra il QR code visualizzato nel pc. In alternativa, puoi inserire manualmente il codice di attivazione visualizzato nel pc. Ti consiglio di inquadrare il QR code. È più veloce e in questo modo gli altri campi saranno compilati automaticamente. In caso di inserimento manuale, nel campo descrizione, inserisci il nome utente della firma remota. Poi clicca attiva. Ritorna alla schermata del pc e clicca su prosegui. Nel campo OTP inserisci un codice OTP generato con l'app e clicca nuovamente su prosegui per completare la configurazione. Il codice ha una validità di tempo limitata, pertanto deve essere utilizzato entro il tempo indicato all'interno del cerchio. A questo punto la procedura di configurazione è conclusa con successo. Termina cliccando su chiudi.